Musica Proseguono gli incontri diretti della Giunta Comunale con i cittadini. L'appuntamento è previsto tutti i mercoledì, dalle 14.30 alle 16.30 nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, per dare ascolto alle esigenze della collettività ed avviare un confronto costruttivo sulle questioni di maggiore interesse. L'iniziativa, che rappresenta uno strumento innovativo di partecipazione democratica, ha coinvolto questa settimana l'assessore al patrimonio e personale Bernardino Tuccillo. La partecipazione democratica e l'apertura dell'amministrazione alla città rappresentano uno dei punti cardi nel programma del sindaco. Tra i cittadini che hanno preso parte all'incontro, anche alcuni idonei all'ultimo concorso Formez, che hanno chiesto informazioni sui tempi di scorrimento delle graduatorie. Io ho assicurato sulla volontà dell'amministrazione di arrivare ad uno scorrimento delle graduatorie. Le domande sono domande soprattutto da parte dei giovani sul loro futuro, su eventuali opportunità di lavoro. Io ritengo l'esperienza di questi incontri con i cittadini è un'esperienza profondamente utile, proficua e molto formativa anche per noi amministratori.